La sesta puntata di Ballando con le stelle, trasmessa su Rai 1, ha scatenato polemiche tra i concorrenti e la giuria. Massimiliano Ossini ha criticato la presunta mancanza di obiettività dei giudici, mentre Sonia Bruganelli ha risposto piccata alle critiche di Guillermo Mariotto. Le tensioni hanno reso la serata ancora più avvincente per il pubblico. Un momento significativo è stato il ritiro temporaneo di Nina Zilli e Pasquale Larocca a causa di un infortunio. Nina ha deciso di abbandonare la competizione per recuperare, annunciando il suo ritorno il 30 novembre. Durante la sua esibizione ha cantato una delle sue canzoni, dimostrando il suo talento anche al di fuori del ballo. La classifica finale ha visto Anna Luca Stoldi e Nikita Perotti al primo posto con 77 punti, seguiti da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con 50 punti. Il tesoretto di 50 punti è stato assegnato a Massimiliano Ossini e Vera Kinnunen, cambiando le sorti della competizione. Le coppie che hanno superato il turno sono state decise anche grazie al voto del pubblico. Nel ballottaggio tra Alan Friedman e Giada Lini e Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, la coppia di Sonia ha prevalso con il 64% dei voti, eliminando Alan e Giada. La competitività del programma è emersa chiaramente, con ogni esibizione a differenza. La tensione è palpabile e il pubblico è sempre coinvolto nelle sorti.